Leggiamo insieme nel capitolo 24 del Vangelo di Luca dal versetto 36 al versetto 43 Or mentre i due discepoli parlavano di queste cose Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse pace a voi ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani ed i miei piedi perché son ben io palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io e detto questo mostrò loro le mani e i piedi ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano disse loro avete qui nulla da mangiare essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito e Gesù lo prese e mangiò in loro presenza quello che abbiamo letto è il resoconto di un episodio che riguarda l'incontro di Gesù risorto con gli undici discepoli più alcuni che erano con loro ma anche con i due discepoli che Gesù aveva incontrato già sulla via di Emmaus questi ultimi infatti erano ritornati a Gerusalemme avevano incontrato appunto i loro colleghi e avevano loro raccontato narrato proprio l'episodio che li riguardava direttamente cioè Gesù che li aveva incontrati sulla via che portava al villaggio di Emmaus Gesù risorto quindi dai morti Gesù all'improvviso compare quindi in mezzo a loro e qualcosa di miracoloso avviene questo episodio infatti ci indica alcune cose che si verificano quando si incontra Gesù risorto dai morti Gesù vivente infatti non appena Gesù comparve in mezzo a loro la prima cosa che disse appunto pace a voi questo non era soltanto un saluto era qualcosa di più ci parla infatti del primo tangibile effetto dell'incontro con Cristo Gesù risorto dai morti quando si incontra il Signore Gesù Cristo immediatamente si verifica un cambiamento di stato d'animo sì la presenza di Gesù porta sollievo porta serenità al cuore la presenza di Gesù produce quella pace interiore che tante tante persone che tutti cercano anche se inconsapevolmente Gesù infatti non è un tiranno che opprime Gesù non è un despota Gesù non è assolutamente un essere anche capace di legare gli uomini e le donne a sé costringendoli Gesù invece è colui che viene e produce pace nel cuore Gesù è il nostro amico fedele Dio è un padre che cura è un quello che si interessa è un amico che incoraggia un giorno infatti Gesù incontrò una donna che aveva perduto già suo marito era vedova e aveva perduto nel frattempo anche suo figlio l'unico figlio maschio che aveva e quando Gesù la incontrò prima ancora di risolvere in maniera definitiva i suoi problemi personali e familiari la prima cosa che fece le rivolse la parola e le calmò il cuore la consolò di quella profonda afflizione dicendo le donna non piangere quando si incontra Gesù la prima cosa che si verifica il primo effetto che si produce è un cambiamento di stato d'animo ma questa parola questo saluto rivolto da Gesù ci parla anche di un cambiamento di posizione infatti l'apostolo Paolo fa eco a questo saluto dicendo giustificati dunque per fede noi abbiamo pace con Dio abbiamo pace con il nostro padre celeste Dio in Cristo Gesù infatti ci vede come se non avessimo mai peccato la sua non è tolleranza non è indulgenza nei confronti del peccato ma è semplicemente soltanto efficace giustizia noi che eravamo nemici noi che eravamo peccatori per mezzo di Cristo Gesù veniamo perdonati e il Signore ci vede oramai come suoi figli il peccato è stato punito ma è stato punito nella morte di Cristo Gesù il nostro amato salvatore il secondo effetto della presenza di Gesù ci viene indicato qui nei versetti seguenti Gesù invita infatti tutti gli astanti che ha appena visitato a guardare la sua persona ma anche a toccarlo addirittura infatti dice loro che sono smarriti guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io toccatemi toccatemi infatti queste parole ci parlano di un secondo effetto importante avevano già visto Gesù avevano udito le sue parole e questo sarebbe addirittura potuto bastare per infondere loro la certezza che era veramente lui che era veramente il loro maestro che era veramente Gesù risorto dai morti ma Gesù invita infatti gli astanti a compiere ancora qualcosa di più a compiere un altro passo addirittura a toccarlo insomma ad accertarsi che fosse veramente lui mediante il tatto e questo ci parla questo fatto ci parla di qualcosa di ancora più profondo di una certezza ancora più profonda addirittura assoluta e ci presenta ci fa intravedere la possibilità che tutti coloro che incontrano Cristo Gesù risorto dai morti lo possono personalmente sperimentare perché Gesù è davvero è veramente risorto dai morti incontrando Cristo Gesù infatti si può davvero veramente sperimentare il perdono dei peccati si può davvero veramente sperimentare la vita nuova per mezzo del suo meraviglioso sacrificio e della sua risurrezione si può sperimentare una convinzione profonda come quella che nutriva l'apostolo Paolo il quale diceva io so in chi ho creduto non si tratta di un'esperienza superficiale emotiva epidermica ma di un'esperienza appunto come dicevamo profonda non limitata nemmeno temporanea nemmeno provvisoria ma personale di cui noi siamo protagonisti non di seconda mano ma che invece noi possiamo realizzare personalmente questo brano ci presenta anche una terza importante conseguenza dell'incontro personale con Cristo Gesù risorto Gesù invitò gli astanti come dicevamo a guardare le sue mani i suoi piedi addirittura a toccarlo ma poi andò oltre e disse loro che nel frattempo si erano rallegrati a dimostrazione di come fosse mutato il loro stato d'animo avete qui nulla da mangiare e si gli porsero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e lo mangiò in sua presenza il problema di quei discepoli era appunto sapere se si trattasse davvero di Gesù oppure no se quella persona che avevano davanti era Gesù risorto dai morti oppure no avevano veduto Gesù avevano udito le sue parole il maestro risorto li aveva addirittura invitati a toccarlo a toccare il suo corpo ma ora addirittura mangia in sua presenza in loro presenza un corpo quindi quello di Gesù perfettamente funzionante capace di nutrirsi capace di mangiare era evidente che Gesù aveva vinto la morte era davvero risorto dai morti e quindi il terzo effetto che volle produrre negli astanti nei suoi discepoli era appunto la certezza che egli dona ai credenti la vittoria sul peccato la vittoria sui vizi la vittoria sui legami la vittoria sulle debolezze la vittoria stessa sulla morte perché chi incontra Gesù addirittura riceve la vita e la vita eterna colui che incontra il Signore è un uomo una donna che viene liberato completamente da ogni forma di schiavitù riceve una vita simile a quella di Cristo che non avrà assolutamente mai termine perché Gesù è risorto dai morti ed egli dona una vita senza fine questo produce l'incontro personale con Cristo Gesù il Salvatore la serenità e la pace del cuore la pace con Dio la certezza di una vita nuova e la vittoria su ogni forma di debolezza su ogni vizio e su ogni peccato fin anche sulla morte che Dio ci benedica grazie a tutti grazie a tutti